Musica Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri la pallannuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi il capitano della Waterpolo Milano Metanopoli, Giacomo Lanzoni. Ciao Giacomo, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, grazie a voi. Giacomo, iniziamo da una domanda un attimo più personale. Quali sono i motivi che ti hanno spinto a continuare il percorso intrapreso lo scorso anno con la Waterpolo Milano Metanopoli? E' concluso sì con la salvezza agguantata all'ultima gara di Girone Playout contro la Rinaldes Florenza. Guarda, io sono rimasto perché di base credo in questo progetto, credo che la società abbia delle grandi prospettive, sia a livello societario di pallannuoto, sia a livello di città. Perché nessuna società si è mai spinta così in avanti in questa città come Milano, che pone davanti a noi davvero diversi ostacoli, organizzativi e non. Ovviamente l'anno scorso ci siamo salvati l'ultima giornata, ma non siamo riusciti a mantenere praticamente nessuno di quella squadra, tranne me e Busillacchi. E questo ovviamente mi dispiace, però io ho accettato di rimanere in questo progetto perché vedo ambizione e vedo anche possibili miglioramenti. Progetto che, lo hai detto tu, una rosa quasi rivoluzionata, scusami quasi per intero, quindi bisogna ripartire da zero, bisogna procedere alla formazione di un gruppo alla sua amalgama. A che punto è arrivato questo processo? Siamo sicuramente all'inizio. La Coppa Italia per noi è stata semplicemente un allenamento, non eravamo ancora completo, mancavano diversi giocatori, sia Stefan che il nostro straniero russo, sia Mauriz, ed eravamo appunto alle prime partite tra di noi. Quindi noi siamo oggettivamente indietro rispetto ad altre squadre che hanno formazioni storiche, con giocatori che si conoscono da tempo. Adesso domani andiamo a Palermo, per noi non dico che è un allenamento, ma quasi, sono tutti i step che dobbiamo fare affinché appunto la squadra trovi un'amalgama importante e migliore. Proviamo a scendere un po' più nel dettaglio. Il primo impegno ufficiale è stato quello del girone di Coppa Italia, sconfitte abbastanza nette, sia contro la Rari Nantes e Savona, che contro i padroni di casa della Pallanuto Trieste. Quali consapevolezze però avete acquisito nei primi due match ufficiali della nuova annata? Ma, consapevolezze... Allora, sicuramente siamo andati con una formazione rimaneggiata. I giovani della Metanopoli, della Waterpolo Milano, hanno bisogno davvero di tanto tempo, perché qua comunque manca anche una cultura di Pallanuto, una cultura sportiva. Per loro è stata sicuramente una bellissima esperienza, però non pensavamo sicuramente di fare buoni risultati né con Savona né con Trieste, che sono formazioni importanti, che hanno cambiato poco e che giocano per tutti altri obiettivi. Noi, il nostro obiettivo è la salvezza e la consapevolezza è quella che con altre squadre, se riusciamo a mettere dentro grinta, cattiveria sportiva e riusciamo a costruire una mentalità, sicuramente possiamo trarci delle soddisfazioni. Domani si inizia, lo hai detto anche tu, il percorso in campionato, debutto complicato a Palermo contro un lanciatissimo Telemar, reduce da un primo turno di Euro Cup concluso a punteggio pieno, e in attesa di un secondo che disputerà a Palermo da venerdì a domenica. Le partite bisogna sempre giocarle, però penso che non dico nulla di sbagliato nell'affermare che il pronostico sembra abbastanza chiuso. Allora ti chiedo, quali sono le risposte che chiedete a questa prima partita di A1? Beh, assolutamente, sì, hai ragione, assolutamente. Il Palermo parte molto avanti rispetto a noi, hanno migliorato la squadra l'anno scorso, perché hanno perso Mancino, Luca Damonte, ma hanno comprato giocatori importanti come Basic e Irving, quindi all'apparenza il risultato è sicuramente a loro favore. Noi dobbiamo andare giù appunto per costruire qualcosa, per costruire una mentalità, per costruire il nostro gioco, per iniziare a conoscerci al meglio tra noi giocatori, perché appunto essendo una squadra giovane, una squadra nuova, dobbiamo appunto anche conoscerci tra di noi. e dobbiamo andare giù per costruire anche la nostra identità, l'identità parte tutta dalla difesa. Quindi non dobbiamo prendere un'imbarcata di gol, non dobbiamo regalare azioni al Palermo, ma dobbiamo semplicemente giocare in maniera semplice e ordinata e vedere appunto come va la partita. Ritroverai da avversario il tuo vecchio allenatore, Gubaldiniti. Quanto è importante secondo te nel percorso di crescita di una squadra che ha iniziato un progetto vincente come quello del Telemar dello scorso anno, poter contare su un allenatore di cotanto spessore e carisma? Gubaldiniti per il Palermo è fondamentale. A livello tattico è sicuramente uno dei numeri uno. Ha arrivato a Palermo, ha rivoluzionato completamente la squadra, il modo di giocare della squadra e con questa difesa che fanno particolare mette davvero il bastone tra le ruote a tutte le squadre con cui gioca. L'allenatore è fondamentale per le squadre, comunque anche noi abbiamo un buonissimo allenatore che è Josko Krejkovic e se impariamo a seguirlo con il lavoro, con il duro lavoro sicuramente miglioreremo tanto. Da capitano della squadra quale messaggio vuoi rivolgere ai tuoi compagni alla vigilia del match? Sicuramente di mettercela tutta, di non abbattersi alle prime difficoltà perché troveremo sicuramente diverse difficoltà durante l'anno. Per noi sarà un anno davvero difficile perché appunto partiamo più indietro degli altri, siamo una squadra che ha cambiato di più, ma col duro lavoro solitamente si riesce sempre a raggiungere l'obiettivo che ho fissato. Bisogna lavorare a testa bassa e senza appunto deprimersi a causa dei risultati negativi. Dei deprimi e difficoltà, certo. Certo, bisogna crederci e non perdere mai la speranza. Quali fattori, secondo te, risulteranno decisivi per riuscire a conquistare la salvezza? Sicuramente la difesa, la difesa è fondamentale. E poi un equilibrio, dobbiamo cercare di avere il più equilibrio possibile all'interno della rosa, della squadra. Non giocare appunto da squadra, non per i singoli, ma per raggiungere un obiettivo che la salvezza, spesso, volentieri, i singoli si devono mettere a disposizione totalmente per il risultato finale per la squadra. Chiudiamo con un'ultima battuta. Si stanno progressivamente allentando le restrizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Che cosa significa tornare a giocare con il pubblico? Ma significa tornare a divertirsi, perché l'anno scorso è stato un campionato davvero deprimente, sembravano tutti gli allenamenti, non sentivi vociare, non sentivi tifo, non sentivi urlo, non sentivi nulla, e quindi sicuramente per noi è una nota super positiva e si spera di raggiungere il 100% dei tifosi all'interno delle piscine. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Giacomo Lanzoni per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Giacomo, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao a tutti. Ringrazio Giacomo Lanzoni per averci fatto spettatori per la prossima puntata.